Prosegue con Tutte a casa, commedia Dolce Amara che ha come protagoniste Paola Gasman, Paola Tiziana Cruciani e Paola Letizia Cruciani, l'undicesima stagione invernale di Giffoni Teatro. Lo spettacolo, in programma per domani alle ore 21, è scritto da Giuseppe Badalucco e Franca De Angelis, si concentra sull'aspetto, abbastanza inedito ma di enormi proporzioni, dell'ingresso delle donne nel mondo del lavoro nel corso della Prima Guerra Mondiale. Un primo imponente approccio, destinato all'epoca a non avere immediate conseguenze sul piano sociale, una volta terminato il conflitto, ma che di certo accelerò la presa di coscienza di molte di loro.